Per tre giorni dal 13 al 15 ottobre il Palazzo delle Arti di Napoli sarà fulcro di una serie di eventi sulla disabilità e il Capability Festival, programma di mostre, proiezioni, incontri, aperitivi, dibattiti per riflettere sul tema in chiave contemporanea. Numerosi ospiti e influencer aderiranno all'iniziativa che vuole porre l'attenzione su tematiche ancora poco discusse, l'inclusione, la sessualità, il dopo di noi, l'autonomia, i diritti negati. Dobbiamo partire dalle nostre capacità, ognuno di noi ha delle capacità diverse e la disabilità è un mondo ricco di capacità. Abbiamo deciso di parlare ai giovani, agli studenti attraverso incontri nelle scuole ma anche attraverso dibattiti. E poi lo faremo con una serie di associazioni nel mondo del terzo settore che si occupano di disabilità, ma di una disabilità diversa, contemporanea, dove la disabilità non è solo un problema ma è una ricchezza. Non solo al PAN, gli eventi del festival saranno diffusi sul territorio e nelle scuole e per questa prima edizione, in collaborazione con i ragazzi della Scintilla Onlus, sono previste visite guidate con biglietti ridotti al Pio Monte della Misericordia, ente plurisecolare che ancora oggi promuove attività di assistenza e beneficenza. Discutere di disabilità ma facendoli in una maniera moderna, guardando quelle che sono le nuove frontiere, i nuovi approcci e mettendo al centro quindi una visione contemporanea di queste tematiche. Quindi è un incontro importante che testimonia ancora di più l'impegno del nostro assessorato e della nostra amministrazione su questi temi. La veste grafica dell'iniziativa è stata realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e durante il festival saranno online sul sito del Comune le linee guida dell'accessibilità, disponibili per chiunque voglia rendere più fruibili ed inclusivi il proprio spazio o i propri eventi culturali. Per un'iniziativa come questa è importante che l'Accademia di Belle Arti sia presente e testimoni la sua partecipazione. L'idea che ci è venuta è stata quella molto semplice ma assolutamente essenziale di rendere tutti gli eventi musicali e non solo quindi in maniera poi trasversale accessibili, accessibilità intesa non solo come facilitazione all'accesso fisico ma anche come informazione per rendere tutti i soggetti con abilità diverse quali possono essere gli eventi più o meno adatti.